Bentornati su cui parti, oggi si farà il veliero bilancia, il cursore finalmente si è calmato, ma stavo sempre davvero, cercherò di mettere in equilibrio 20 mi sul veliero senza fare il bilanciare, il gioco di squadra è fondamentale, 20 mi, forse sarà difficile Cambiamina Lui, reg Secondo voi è più bello chiamarlo reg o reg Veliero bilancia, comunque si chiama Benvenuti a tutti nella modalità in coppia del veliero bilancia Sì, perché prima c'era un'altra modalità, se l'avete visto È il momento che è la prima volta che giocate, vi spiegherò le regole Sul vero bilancio bisogna posizionare i mi sull'albero maestro senza fare il solare fuori bordo A ogni rando collaborerete in un minigioco per stabilire le dimensioni dei due mi che dovrete poi sistemare Se completate il minigioco i mi saranno la stessa grandezza, altrimenti avranno dimensioni diverse I mi potranno vestire di verde, giallo o fucsia e dovranno venire posizionati sul pennone dello stesso colore Se assieme riuscite a posizionare i ventini sull'albero avete vinto la partita Se invece il veliero si inclinare sul lato e qualche mi cadrà in mare, la vostra partita sarà un naufragio Buona fortuna La prima cosa nel gioco di collaborazione disiderà le dimensioni dei mi che andrete a posizionare La casa infestata Illuminati i fantasmi e arrivate riuscite se illuminati con la torcia i fantasmi si risolvono Tipo Luigi's version Solo qua senza stessa polvere Quindi si è detto che sono dimensioni diverse Se perdiamo vuol dire che allora uno avrà un mi piccolo e un altro un mi grande E invece allora se vinceremo saranno entrambi i medi Oh però è il mi gioco non c'era bisogno di dicelo Già sapevamo che dovevamo scappare Insomma chi vorrebbe rimanere in una casa infestata? Nessuno Vero? Perché a voi invece vi piacerebbe Questo è grande come fantasma Sarà più difficile farlo dissolvere Dissolto Wow Stranamente è sembrato facile Oh Ma quanti erano? Ho come l'impressione che se voi non li illuminate E non spariscono Avete notato che si avvicinavano? Ecco secondo me Se vi si avvicinano troppo Avete completato il mio gioco Quindi i 2.000 sono la stessa tezza Puntate quando vi verso il mio premio Prefra rilascia Per sistemare il mi sul pennone Entrambi gialli Sì sono entrambi i medi Come avevo detto io Quindi mi sa che se voi non li illuminate E riescono ad arrivare a voi Vi prendono E poi non so che cosa ci fanno Sfida per amici Solo dei miei 8 volanti Fate scopriare i palloncini Per prendere i regali Nastro verde 10 punti Nastro rosso Di 5 punti Nastro blu 2 1 punto Obiettivo 30 punti Questo è un nastro rosso 5 punti Una super 10 No Abbiamo mancato quello Con il nastro verde Vedrà anche il gigante Credo che vai 10 punti Quanto sarebbe bello Se questo tipo Se questo tipo di montagna russa Esisterebbe Secondo me è tanto Oh troppo 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 Oh Stai in equilibrio E fortuna Va per un pelo Si nota Che sta Che sta per cadere Gymkano spaziale E' fatto Le storie Riva Nel più breve Tempo possibile Ma allora Che cosa è la gymkana Una specie di scalata Attenti Qui però c'è il tempo E non si riesce a vedere tanto Anche perché gli stresi Sono tutti in alto Noi siamo qui in basso Presto 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 Sì Si Proprio gli ultimi 3 secondi stiamo tornando sulla terra sulla terra ferma ah stavolta è diverso colore ecco allora ci sono sì ho visto ben ci sono 10 round ecco perché 20.000 la pesca è anche collaborazione chiate sulla lens nelle stesse istanze per catturare i pesci spara dorati obiettivo 5 punti ah sì ma questi pesci devono arrivare sapete com'è non ci abbiamo fatto a peccato con un panno di lenza purtroppo non avete col problema in gioco quindi 2.000 saranno di dimensioni diverse sì e come ho detto uno sarà grande l'altro sarà piccolo e quello grande ovviamente è quello che pesa di più in equilibrio ah l'ho detto allo stesso tempo bob a 2 sfreccia sul bob fino al traguardo sfrutta sfrutta dei pannelli sulle corsie per celare cioè quindi quella questa cosa che si usa sulla neve si chiama bob è un po' strano perché bob viene stato di più tipo per i nomi di persona au no ops è un po' strano è un po' strano grazie pinguini pinguinotti non ci chiederete ma super mario e pinguini si chiamano veramente pinguinotti il che non ha dirotto tanto senso dai dieci mi ne mancano altri dieci scegliere la porta scegliete la porta che possiede estanza dopo stanza ricongiuggetevi alla vostra parte come abbiamo appena visto c'è in una stanza potresti trovarci qualcuno che era in bagno e anche un pugno si eccolo ti ho trovato io batte cinque oh cavoli ho fatto sto per fare una cavolata certo però come ok la nave può essere normale che ci rimane in equilibrio ma come fanno i miei rimanenti in equilibrio continuano a a penzolare pecore pecore in transito aiuta le pecore attraverso il fiume girando le piattaforme mobili che ci rimane in equilibrio che ci rimane in equilibrio Grazie a tutti. E già abbiamo superato il 10. Ma queste povere caprette al centro non gli date neanche nessuno sguardo. Cattivo giocatore 2. Potevo almeno farle passare che siamo più tutto il tempo lì sopra. Anzi al tracci più. Ecco. Non avrei avuto altra scelta perché se l'avrei messo a destra poi sarebbe discogaduto con il peso. Perché l'avremmo messo tutto a destra. Tandem volante. Sul vostro veicolo a propulsione umana volate più a lungo che potete e raccogliete i cuori sulla via per recuperare l'energia. Bisogna girare, girare e girare e pedalare. Fai 300 metri. Quanto sarebbe... Secondo voi sarebbe facile oppure no? Fare 300 metri col tandem. Perchè sempre si esiste. Perchè sempre si esiste. Nuovo record però. 413 metri. Perchè sempre da me la parte più pesante? Ecco. Ma ce non ha senso. Entrambi i miei sono medi e hanno lo stesso peso. Ma sembra stranamente che sempre il mio miei è sempre quello più pesante. La fabbrica di robot collaborata fa sembrare robot con i pezzi che scrono sui nastri trasportatori. Obiettivo 7 punti. 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 Tira l'anello, mettete alla prova la vostra mira e fate sbocciare i germagli, centrandoli con gli anelli prima che scada il tempo. Beh, più o meno direi che sono bravo con la mira. Oh, ma come facciamo a non parlare da vicino? Era un suo ben fatto. Peccato. Ecco, un consiglio. Aspettate che il giocatore 2 metterà il suo mi e poi mettete il vostro. Anche se vi decidete meglio dove mettere reg e pier, livello principale completato, a bordo 20 mi. Quindi l'ora con l'intermedio sarà l'ora di 40 mi? Vediamo. L'altra monto? E ci sono i barili. E a tutte le delenco abbiamo deciso di ascoltare la spiegazione? No. Vediamo quanti. No, mi sa che sono sempre 20. Inoltre il video andrebbe già a avvenire così, perciò questo non lo farò vedere. Sarà l'ultima cosa. Spingite la leva, fuga della miniera. Spingite la leva, torno e cercate di arrivare all'uscita della miniera senza venire colpito da un masso. Anzi, l'idea, proverò a finire questo livello intermedio e poi per arrivare a quello avanzato. Così vedremo insieme com'è. Ma se è come penso, il preca dovrebbe essere sera. A tra poco, forse. Beh, a quanto pare siamo riusciti a mettere a bollo solo sechi. Indrò con super equilibrio in coppia e risponibili nella moglie. Sì, è stato, abbiamo fatto questo. E in pratica sì, quando invece tutti mi cadono e praticamente c'è scritto Game Over e tutti cadono in acqua. E praticamente qui non c'è nessuna differenza, ci sono soltanto i barili. E basta, che in pratica non fanno niente. Finalmente dopo non sapete quanto tempo ho sblocato l'ultima difficoltà, esperto. E a quanto pare no, nella differenza di me non cambia niente. È sempre, sono sempre vittimini. Uh, e qui è anche diverso. Qui c'è la tempesta. E metà della nave sarà distrutta. Povera nave. Beh ragazzi, non sapete quanti tentativi ho fatto. Ma è difficilissimo, non è esperto. Ma poi perché guardate com'è ridotta la nave. E perciò adesso però, adesso però finirò il video. Perché mi sta un po' staccando. Cioè, guardate com'è ridotta. E cioè nella prossima parte di Wii Party faremo l'ultimo gioco in coppia. Se non mi sbaglio trovo la coppia. Ciao.